No, mia cugina è così, dice, io amo Cesare di Luna Pop, ti prego, io ti amo. Cesare ti voglio, mia cugina Antonella che saluto. Beh è giunto il gran finale, gran finale, vogliamo chiudere... In bellezza? Lo diciamo? E in bravura? Dai, subito, secchi, vai, al Festival Bar 2000, gran finale di... Con Luna Pop! Eccolo! Cos'è successo, sei scappata, da una vita che hai vissuto, da una storia che hai bruciato, allora fingi che non c'è. Cos'è successo, sei cambiata, non sei più la stessa cosa, o sei ancora quella che è cresciuta insieme a me. Cos'è successo, sei scappata e conti anche la mia vita, l'ho cercata, l'ho cercata, l'ho provata solo in te. Ma c'è qualcosa di grande tra di noi, che non potrai cambiare mai, nemmeno se lo vuoi. Ma c'è qualcosa di grande tra di noi, che non puoi scordare mai, nemmeno se lo vuoi. Cos'è successo, sei caduta, sei caduta troppo in basso, e ora provi a risalire, ma è la fatica che non vuoi. Cos'è successo, la fortuna non ti ha mai abbandonata, ma ricordati il destino, non ti guarda in faccia mai. Ma c'è qualcosa di grande tra di noi, che non potrai cambiare mai, nemmeno se lo vuoi. Ma c'è qualcosa di grande tra di noi, che non puoi scordare mai, nemmeno se lo vuoi. Adesso cosa fai, cosa inventerai, per toglierti a via, dove andrai. Adesso cosa fai, cosa inventerai, puoi fingere di più, di che non fai. Cos'è successo, la tua luce, la tua luce si è oscurata, o qualcuno che conosco, mi ha portata via da me. Cos'è successo, la tua stella, la tua stella si è grissata, e ora provarci dal buio, a brillare sempre a me. C'è qualcosa di grande tra di noi, che non potrai cambiare mai, nemmeno se lo vuoi. C'è qualcosa di grande tra di noi, che non puoi scordare mai, nemmeno se lo vuoi. C'è qualcosa di grande tra di noi, che non puoi scordare mai, nemmeno se lo vuoi. C'è qualcosa di grande tra di noi, che non puoi scordare mai, nemmeno se lo vuoi. C'è qualcosa di grande tra di noi, che non puoi scordare mai. C'è qualcosa di grande tra di noi, che non puoi scordare mai, nemmeno se lo vuoi. Ragazzi, è straordinario il fatto musicale più importante dell'anno. Io voglio chiamare Alfredo Troisi, presidente dell'APT, e il maestro Orafo Zucchetta, che ha fatto tutti i premi bellissimi, perché voi siete i vincitari assoluti dal Festival Bar 2000. Un successo straordinario. Vi meritate tutto l'applauso di questa arena. che ha visto confermati un gruppo di star che rimarranno nel tempo. Sono felice di premiarvi con il premio di vincitori assoluti. Grazie. L'Ona Po. Grazie. Alla pelle d'oca. Grazie a voi. Complimenti. Bacio. Coppa. Grazie mille. È un grande momento per voi, è un grande momento per il Festival Bar, ma è anche un grande momento per la musica. Io voglio fare gli auguri dei 25 anni. Sono 25 anni che siamo in questa arena. 25 anni che Alfredo Troisi e Alberto Zucchetta premiano gli artisti. Fra poco meno di un'ora è anche il compleanno di mia mamma. e io ti voglio fare un grandissimo mondo di auguri. Auguri alla mamma. E per il tuo compleanno voglio regalarti un altro straordinario successo dei Luna Pop. Sono sicuro che gradirai. Loro hanno fatto un pezzo che è entrato a piene lettere nella storia. È stato, diciamo, il loro pezzo d'esordio. D'esordio. E direi che credo che tutti voi vogliate ascoltarlo. Vespa 50. 50 special. Vespa 50. Vespa 50. Girano in centro sfiorando i 90. Rosse di fuoco comincia la danza. Di frecce con dietro attaccata una targa. Dammi una speciale estate che avanza. Dammi una Vespa di porto in vacanza. Ma quanto è bello andare in giro con le ali sotto i piedi. Se avrai una Vespa special che ti toglie i problemi. Ma quanto è bello andare in giro con i bolognesi. Se avrai una Vespa special che ti toglie i problemi. la scuola non va, ma una Vespa una donna non ho, ho una Vespa domenica e tra, e una Vespa mi porterà. Fuori ci ta town fammi, la scuola non va, ma una Vespa un'amn tại di certo ao warmer. Fuori di città. Fuori di città. Fuori di città. Fuori di città. Esco di fretta dalla mia stanza A marce in granate dalla prima alla quarta Devo fare in fretta, devo andare a una festa Fammi fare un giro prima sulla mia Vespa Dammi una special, l'estate che avanza Dammi una Vespa e mi porto in vacanza Ma appunto è meglio andare in giro Con le ali sotto i piedi Sei una Vespa special che toglie i problemi Ma appunto è meglio andare in giro Per i colli ogni esì Sei una Vespa special che toglie i problemi La scuola non va, ma una Vespa una nonna non ho Ho una Vespa domenicheggia E una Vespa mi porterà La scuola non va, ma una Vespa E una Vespa speciale Per i colli ogni esì La scuola non va, ma una Vespa speciale Grandiosi, grandissimo successo L'arena in piedi ad onorarvi Però io a questo punto, a questo punto purtroppo Il Festival Bar 2000 è finito qui Io voglio ringraziare tantissimo Alessia Marcuzzi e Fiorello Fiorello Che sono stati bravissimi Il Luna Pop che si sono affermati e confermati Grandi star del panorama musicale italiano Alessia Io ringrazio tutti, grazie a voi dell'arena e a tutti quelli che hanno collaborato Per fare questa manifestazione del Festival Bar A partire da Andrea Salvetti, dalla regia di G.D. Romio I costumi, ai tecnici, direttore di palco, tutti Adesso mi dimentico qualche nome, però grazie ancora Io direi, scusate, prima di finire riprenderei il premio Riprendiamo il premio? Prendiamo il premio, ci vado io Cominciando a prestare la nostra musica Adesso la cosa più importante per noi è mantenere i piedi per terra e goderci questo momento Grazie a tutti Però voi, voi Cesare, ragazzi Voi potreste immaginare un giorno migliore di questo? Assolutamente no, ma stasera sì Allora, un giorno migliore Finiamo alla grande Grazie a tutti 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 Grazie a tutti